Bene bambini, eccoci qua per una nuova lezione sull'analisi logica. Abbiamo imparato che per fare l'analisi logica dobbiamo analizzare ogni singolo pezzettino nel quale una frase può essere suddivisa. Ma voi mi potete chiedere, maestra, come facciamo a suddividere una frase? La possiamo suddividere in pezzettini facendoci, ponendoci delle domande. Quali sono queste domande? Chi? Cosa fa? Quando? Dove? Come? Di che cosa? Ma ce ne sono ben altre. Queste sono alcune le principali. Quando mi chiedo chi trovo il soggetto della frase, cioè la persona, l'animale o la cosa che svolge l'azione. Quando mi faccio la domanda cosa fa, trovo il predicato verbale, cioè l'azione compiuta dal soggetto. Quando mi chiedo quando, trovo un'espansione e questa espansione ha un nome particolare, si chiama complemento di tempo. Se mi pongo invece la domanda dove, trovo un'altra espansione. Questa volta questa espansione si chiama complemento di luogo, perché mi dice dove si svolge l'azione. Se mi chiedo la domanda come, trovo come viene svolta l'azione, quindi trovo il complemento di modo. Infine, se mi faccio la domanda di che cosa, trovo un altro complemento, cioè un'altra espansione. E questa espansione si chiama complemento di specificazione. Ma torniamo sui due pezzettini più importanti della frase, che sono i pezzettini che rispondono alle domande che, chi e che cosa. Quando mi faccio la domanda chi, abbiamo detto troviamo il soggetto. Quando mi faccio la domanda che cosa fa, trovo il predicato verbale. Il soggetto e il predicato verbale insieme formano la frase minima, che è la frase più corta che ci sia. Andiamo a vedere adesso come facciamo a suddividere in sintagmi una frase. Osserviamo questa frase. Il cane di Roberto abbaia con rabbia. Chi? Il cane. Ho trovato il primo pezzettino che risponde a questa domanda. Il cane di chi? Ho trovato un'espansione che si chiama complemento di specificazione. Che cosa fa questo cane? Abbaia. Ho trovato il predicato verbale, cioè il verbo, voce e il verbo abbagliare. Ma come abbaia questo cane? Abbaia con rabbia. Mi dice il modo con il quale questo cane abbaia. Quanti sintagmi abbiamo trovato allora in questa frase? Il primo sintagma il cane, il secondo sintagma di Roberto, il terzo abbaia e il quarto con rabbia. Quindi questa frase è formata da quattro sintagmi. Ma andiamo ad analizzarli uno alla volta. Allora abbiamo detto che quando un sintagma risponde alla domanda chi mi aiuta a trovare il soggetto. Che cosa fa questo soggetto? Trovo il predicato verbale. Abbaia, voce del verbo abbagliare. Il cane di chi? Mi specifica di chi è questo cane. Di chi? Giusto? Allora questo è un complemento di specificazione. E poi mi faccio la domanda come abbaia? Con rabbia. Quindi questo sarà un complemento di modo. Ecco che abbiamo fatto la nostra analisi logica di questa frase. Ma andiamo a vedere un altro esempio. Seconda frase. Luigi, no scusate, Giulio corre in giardino con Luisa di pomeriggio. In quanti segmenti può essere suddivisa questa frase? Allora prova a vedere. Chi? Giulio. Cosa fa Giulio? Corre. Dove corre Giulio? In giardino. Con chi corre Giulio? Con Luisa. Quando corre Giulio? Di pomeriggio. Allora. Chi? Corre? Quanti sintagmi sono? Andiamo a controllare. Uno, due, tre, quattro, cinque. Questa frase è composta da cinque sintagmi. Andiamo ad analizzarla un pochino più da vicino. Allora. Giugno. 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 Abbiamo detto, quando mi faccio la domanda chi, trovo il soggetto. Giugno. Cosa fa questo Giulio? Corre. Quindi questo è il predicato verbale. Mi dice l'azione. Dove? Dove corre? In giardino. No, quindi questo sarà un complemento di luogo perché mi dice il dove. Con chi? Ma con Luisa. Quindi è un complemento di compagnia. Quando? Mi dice quando il tempo. Quindi è un complemento di tempo. Perfetto. Anche questa frase l'abbiamo analizzata. Andiamo a vedere un altro esempio. Un'altra frase. Pronti? Andiamo a suddividerla in sintagini. La nonna di Sofia ha cucinato una torta. Chi? La nonna. Di chi? Di Sofia. Cosa ha fatto? Ha cucinato. Ha cucinato. Che cosa? Una torta. Bene. Pronti? Che andiamo? A vedere di quali pezzettini invece è formata questa frase. Eccoci qua. La nonna. Allora, per trovare la parola nonna, mi sono chiesta chi. Quindi ho trovato il soggetto di questa frase. Chi compie l'azione. Ma la nonna di chi? Di Sofia. Vado a specificare la nonna di quale bambina. Quindi questo sarà un complemento di specificazione. Complemento di specificazione. Cosa ha fatto questa nonna? Ma ha cucinato. Giusto? Quindi mi dice l'azione svolta. Predicato verbale. Ha cucinato che cosa? Allora. Ha cucinato. Che cosa? Mi dice quale oggetto è stato cucinato. Quindi questo è un complemento diretto che si chiama complemento oggetto. Perché dico che è un complemento un po' diverso rispetto agli altri? Perché devo prima nominare il verbo e poi mi faccio la domanda che cosa oppure chi. Allora, questo è un complemento speciale, diciamo. Che lo trovo solo quando mi ripeto il verbo e subito dopo il verbo mi chiedo chi oppure che cosa. Ed eccoci analizzata anche questa di frasetta. Bene. Abbiamo l'ultima frasetta. Proviamo a suddividerla subito in sintacmi. Ponendoci le domande. Allora. Chi? Il pagliaccio è Ernesto. Cosa fa? Lanciò. Lanciò che cosa? Le palline. Devo ripetere il verbo. Quindi lanciò. E poi chiedere che cosa. Ecco il complemento speciale. Dove le lanciò? In aria. Dove? Come le lanciò? Con abilità. Andiamo ad analizzare, allora, ci siamo dimenticati, scusate bambini, di dire in quanti sintagmi viene divisa questa frase. Allora, il pagliaccio è Ernesto è uno, lanciò il due, le palline tre, in aria quattro, con agilità cinque. Abbiamo cinque sintagmi. Bene. Adesso possiamo invece andare ad analizzare i vari pezzettini, i vari sintagmi, a dare loro un nome. Allora, il pagliaccio è Ernesto, chi sarà? Sarà il soggetto, colui che fa l'azione. Che cosa fa? È il predicato verbale, cioè mi dice voce del verbo, vero? Lanciare. Lancia, ecco qui, ripetiamo il verbo lanciò. Che cosa? È un complemento, oggetto. Dove? Lanciò queste palline. In aria, un complemento di luogo. Come le ha lanciate queste palline? Mi dice il complemento di modo. Ecco che bambini, adesso possiamo dire che abbiamo imparato un pochino meglio. Volevo fare una piccola precisazione proprio sul complemento oggetto. Il complemento oggetto bambini è quel complemento, abbiamo detto, particolare, che viene trovato grazie alle domande che mi faccio chi e che cosa, subito dopo aver ripetuto il verbo. Si chiama complemento diretto perché si attacca direttamente al verbo senza avere nessuna preposizione semplice o articolata che lo introduce, ma faremo magari una precisazione più avanti. Per oggi è tutto. Ciao e alla prossima!